no che artiglio rosso parliamo con chavez è infetto vieni con noi che troveremo la cura insieme resta qui troverò una cura ne abbiamo accetta la missione e aggiungi il seguaci ma certo raggiungeva un posto del dottore un pagonista di tempo a sganciare le bombe va bene allora mi ha rimesso ancora la missione aspetta un attimo viaggio offre cura congena se viaggio cosa ci fa un agente a tirorossa nella palla di Trumnell sì andiamo dai allora Harry dobbiamo portare questo qui a casa e dopo c'è da rifare la missione del dottore perché così riusciamo a distruggere il muro ah ok perfetto allora un attimo solo la missione di riformimento raggiungere per dare carburante è un pochino del carburante una tannica a far tutto sempre test un attimo solo Devo trovare una strada Dove stiamo andando la base Adesso se vai dritto di lì trovi una strada Dopo la casa, con la destra Amo lo devi portare alla base nostra Devo portare questo qui alla base nostra Così diventa dei nostri Lo devo curare dalla piaga Ah ok Insomma è un effetto E mi devo forse curare anch'io E poi dopo Bisogna fare la missione del Ormai ho la gola secca veramente Del dottore Ok ancora quello là Io ero armato a posto per spararli Non so ma quando scegli una missione L'altra si No no dico per il mio Mino Adesso infatti lo cambio Allora aspettiamo che io cerco di andare a fare qualche cura E sempre in mezzo ai meroni Eh lo sai che lei Allora ricovera qualcuno Fabbrica oggetti e produci Questo Ancora Questo Ok Poi Curati tu me Esatto Vediamo come sto Sto Dove sei tu Vieni qua C'è un uomo qua dentro C'è un nuovo collega qua Aspetta Stai male per rimanere Qui fuori L'asemiglio con il gioco Continua per conto tuo Non rischiamo Già un po' di cura A nulla il viaggio E offri la cura Oh Sto aggiustando il fogone Ok Lo apprezza Ma io Volevo fare un'altra roba Dai fiala E stringi un'alleanza Dai la cura E ricruita ciao Certo Prendi più in sito e noi Esatto No Ne abbiamo uno in più Hai stato lì con noi Bene Adesso io saluto un attimo Ellen Dai cura Mi sono unito all'artiglio rosso Ok Allora Siete calmi Ma tu Ok Quina si va bene Tu Congeda Ok E adesso Li ho liberati Esatto Io devo mettere giù uno zaino Energia E se gli fornisco energia cosa fa Può essere migliorata Requisiti acqua Ho sbagliato il requisito pieno Allora via questa mod Instalazione completa Via questa mod Generatore a pedali Un pentolone E adesso scusa Acqua c'è Ok E potenza 20 stoccaggio massimo Munizioni a carbonanti 20 stoccaggio cibo Però questo serve potenza E costa quello A tre mattoni Quanti ne abbiamo Di mattoni Ne abbiamo Una di roba Ma cosa è arrivato Sei sempre Da che fai Tutti quei casotti Da fuori E lui E lui Ok Piega Sistemata Ma io Adesso Tutta questa roba qui Che è tutta roba Che potrei dare A Harry Io l'avevo già data Allora Granate Boombox Granate Petardi Un altro petardo Questa Cos'è Ghiandole belenose Ho ucciso Pintolone Il gigantone Che avevamo davanti A casa Con la macchina L'ho investito Finchè non sono morti Riempitrice Dai Togliti dalle palle Ma come sei peso Ma sai che sei Anche te Scatola di Blink Ruf Ruf Chaves Allora Vediamo Se ti riesco A mettere giù Un po' di roba Che ti piace Questo Allora Così È un po' Pesantino Ma dai Sono tutti presi Per tendi Beh Stai sempre davanti Alla porta Del cancello Non riuscivo neanche Ad entrare Fa bene Fa bene Stare lì Scavalchi Che è Entrare così Stato casa stabile Allora Diamo un'occhiata Ancora qui Perché io Non ho capito Una piccola cosa Allora Ma se io Voglio fare Trick E ballack Scarta Costo 1 Mod Ma no Perché Energia Ok Quindi ce li ho Comunque Sì Vic Allora Fatto Arrivo Andiamo a controllare Una cosa Ho aggiustato Il furgone Bravo Però serve Una tannica Di benzina E una cassetta Degli attrezzi Il furgone Per un breve tempo Allora Mod Ma scusa Alla smetto di uscire Rientrare Le mod Disinstalla Il riposo Rimuove le ferite No no Rimani pur lì Rimani pur lì Dunque Cura la piaga E l'infezione Qui stiamo a posto 1 2 3 4 5 6 Più te Siamo in 7 Ma noi Non mi devi contare Allora Recupero salute Non ci sono io Cosa Non ci sono io No no Ho detto più te Sì Certo Sì Ok Allora Vediamo Brutta ma la vedo L'enclave Era un posto Del dottore No Ok Allora Henry Sì Possiamo Fermarci qui Sì E continuare La prossima volta Aspetta un attimo Che cerco Una cosa Qui dalla radio Che voglio capire Esatto Dove solo installare una mod Più 5 limiti avamposto Allora vediamo adesso Come siamo messi Se questa cosa ha influito Possiamo creare altri avamposti Credo Quindi B come base Esatto Ho due avamposti in più Esatto Quindi Andiamo Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Allora Vuoi che chiamo qualcuno con noi Andiamo a fare la missione Dottore A vedere se riusciamo a togliere via Quelle puzze Adesso che Dovremmo fare in fretta Senza più Tante Allora Tu stai lassù Aspetta che l'individuo No io sto uccidendo un po' Di ciccione Sì no Ce l'avevo con un'altra persona Allora Elena Vieni con me Poi Mi serve Chi c'è qua Ti stai curando qua Come sei messo Malik Cosa stai facendo Malik No Non possiamo stare Stai libero tranquillo Andiamo a vedere di qua Invece chi c'è Allora Qui c'è Vic Niente Vic Stalic E qui Ci abbiamo Guarda quanto lavorano Il Maduro Chavez Cos'è successo Chavez Cos'è stata Quell'esplosione Non lo so Non ne sai niente tu Non ho proprio Sentito niente Ma tu Ma l'esplosione Di che tipo Ma che ne so Ho sentito Un boom Boom Un disastro Ma io ho fatto Scodero un bel po' Di tempo fa Un Come si chiama Un ciclone Se non è Se non è che L'ho sentito adesso Io Allora Henry Che mezzo Che mezzo Prendiamo La Gipona Perché l'ho Giustata Però il furgone Sarebbe più figo Il furgone Perché ci sta Più No ma Evitiamo di fare cose Andiamo là E finiamo la missione Del dottore Perché questa volta Ho capito come si fa E quindi Aspetta che Ecco c'è anche Elena Che dobbiamo andare all'aereo Sì Praticamente sì Guarda la mappa No fermati Chiedi a tu Hai ragione Sì perché se dopo Hai ragione Cioè Che mi trovi Sennò Pianco Io No perché io Mi faccio una paglia Una caramella Adesso E siamo a posto Così Non ho mica voglia Di finire Ancora Che si stacca E questo E peraltro Adesso ho messo Tutta la risoluzione Ah ma c'era Allora Lo strozzone Ma volevo uccidere Io Madò L'ho sbattuto Potevamo ucciderlo Però che ci dava Un po' di influenza No Anche io Devo andare a lavorare Sono solo una In 48 Sì ma non hai capito Non volevo l'influenza Ah ok Siccome C'è tante bimbe Anche a casa Con la febbre Ah Anche Filippo Che è un mio amico Che è una bambina Quella piccolina E Adesso La scuola da lui Sono tutte malate I cirolini E sono andati Dal pediatra E sono tutti Stanno bene Con la febbre Eh c'è in giro Sta influenza Qua Un po' stupida Sì ma che cura Però Segui di te Non succede niente Vediamo te Ma per me Se non succede niente Perché ho passato La risuizione Può essere magari Proviamo un'altra volta Anche a poco Sì Bravo Ah hanno detto Che tra un po' Va a finire Che siamo senza gas Davvero Ah sì Per quell'altro Attentato che hanno fatto Credevo che dicevi qua No no Dico Dico che sono Compriamo il cinebasto E andiamo a gasolio O se no Facciamo da biocarburante Ma sì Basta andare a gasolio C'è finché dura Cos'era Allora Dai dai Ce la dobbiamo fare Ce la dobbiamo fare Sì Lascia stare Oggi ti mostrerò Come si fa Dai Andiamo 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 Prima che venga la notte Se no Ah ok Dai dai che c'è un Un ciopec Mi diceva Non è un ciopec Meno male che l'ho gestata la macchina Esatto C'è il ciccione Quale? Ricordati Che appena È lì Ma cosa Uno di quei mostroni giganti Oddio E quindi? E quindi vuol dire Che appena Spare All'affare Lui arriva Così Ma quello lì Dobbiamo strigarcelo Non possiamo mica Eh lo so Allora Sali Lassù Non lo so Cosa facciamo Sulla macchina No Sali in quattro Lo speroni Poi scendiamo Lo sperono Mi distrugge la macchina Da dietro Gli va da dio No Santa galera Ho capito Adesso è da dietro Perché si è girato Mi sta venendo Notte Quello che mi rompe Dai dai Prendilo a manetta Da dietro Che gli fai Il doppio dei danni No Sto andando Troppo forte Perché siamo Sesi Oddio Ma siamo Impazziti Harry Vieni via Harry Beh Dov'è Facciamo Vedo E anche In mezzo Con le puste Lì Basta Rompino Vai via Maledetto Scusa Vaffanculo Cioè Io non lo sto colpendo Né che una volta Adesso l'ho preso No Dai Vaffanculo Ce l'hai fatta C'è tutta quella puzza lì Qui Prendi le tue frecce Sì Prendi che c'è pieno di puzza Mi sono infettato tutto Meno male che ho preso su Una marea di freganti Io forse Dovrei avere anche la cura Piegata Ah Dio ma io sono piegato Prepotente Dai che adesso Vedo Sì Vieni su in macchina però Prima ci allontaniamo da qui Oh no Ah no è andato via È morto qualcuno No è andato via o è morto Forse è andato via il dottore Per me è morto Allora tu vuoi Elena vuole Tutti le cure Elena cura Tu dove sei Ma perché è andato via Quell'idiota Allora aspetta Perché è scappato Ha detto qui Meglio che me ne vado Allora La metto in terra la cura Sì Sorry Non posso portare Ah aspetta Perché sono pieno di oggetti Ah ti do una piaga Io invece Che non lo voglio Dai ma guarda Guarda Lì vuole far tutto No l'ho ripreso Ah no l'hai presa tu Bravo Vai mo lì da Dal coso Ti sei curato No adesso mi curo Aspetta che uccido questo Che mi sta seguendo Vengo su in macchina intanto Dai Mi curo dalla macchina Ecco Ma non me lo fa fare In macchina E vabbè Lo dobbiamo andare a riprendere Perché è scappato via Sì Ma guarda Stai qua Che lo vado a prendere io Sì Scendo però Perché se no Non mi curo In macchina Dove è andato Non c'è più Ma no Parlo al capitano Logan Ah ma no ma non è qua Ma dove sono andato Cioè devo trovarlo Mi fai uscire Ma non c'è un buio Ma c'è dell'altra gente Lì dentro Ma che ne so Io non è qua Ma sì Dice che quello lì È la Guarda dov'è Ci sono due popolazione Popo popo Ma l'enclave dai L'operazione militare Dice che sono E chi è chi E là è Dov'è la macchina È qua Dai che ti inchiodi Salvi su Vai davanti Perfetto Non so Solito La buoi di Non salita Perché sono femmine L'hai raccolto Lui allora Ti volevo dare fastidio A quelli lì E c'è che un urlatore Davvero Una strage Degli innocenti Ma lui è dall'aereo Ma lo so Che lì Ci siamo tutti qua Apposta Allora Quando io gli lancio La roba Dobbiamo colpire Quella roba Ma è chiaro Sto fatto Ci hanno infettato Elena ancora Perché troppo È vero Va bene Non fa niente Io lo vedo Allora Il tumore fatto E lì Lancio La roba E adesso Dobbiamo picchiarlo E sparargli Ok Ce l'abbiamo fatto Gli zombie Gli zombie Protettori Uccidili tutti C'è l'urletti Dov'è quell'urletti Maledetti No 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 Aspetta Chi c'è davanti Alla luce Ed è Capitano Logan Parlando Con Capitano Logan Ci sono le tue frecce Le tue casse Bene Sono pieno di casse Qui è pieno di roba per te È pieno di roba per te Mmm Ehi, questo è lì L'hai trovato di bello Armi Armi Ma cosa cavolo? Semi Semi servono Ma insomma Vabbè se pianti dopo ti do da da mangiare Ah, quella pistola lì è per me Esatto Guardi ci sono anche le munizioni in giro C'hai scaricato anche quelle? Ah, ho visto, sì Questa ti piace? Cos'è, cos'è? Oh, una slot libera Ah, munizioni C'era nient'altro? No, no, arrivo, arrivo Andando di qua Non si combina niente Non cambia niente Chi? Oddio, impazzito Chi è che ha lanciato una granata? No, non è una granata Chi è? C'è un mostro Un ferro Un ferro un'altra volta Ma dov'è? Cioè Cioè Stavo premendo spazio per tenere un calcio al nemico e... Allora Signor tipo strano Ok, portiamoci Logan a casa Aspettiamo che parla con la mamma Che gli dice che viene con noi Sì, adesso la prendo Aspetta, mi devo curare leggermente Ok Ok I'll begin relocating operations to our designated overlook position Understood Logan out Ah, yes I'm gonna miss that sunny, warm disposition All right How about you show me where I'll be bunking? Works for me Oh Oh Ok Ma Che Partenza è proprio turbizzata Dai schiaccialo Aspetta che cerco di capire Guarda perché mi vuole far andare lì che non lo so Ah, perché ho capito perché ci abbiamo messo il segnalino Sto andando alla base adesso eh Sì È sbagliata questa strada? Ehm No Sta andando in camporella Vai diritto per diritto Eh ma a un certo punto devi stare attenti perché ci sono le rocce Dai diritto per diritto No No Allora vai Per la strada Fermati C'è una strada Vai a destra Bravo Perfetto Poi vai a A destra A destra No 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 Bello a destra Vai a destra Vai a destra Segui la strada Quando la strada finisce A destra Cosa faccio? Vai diritto Vai La strada finisce Vai diritto Dritto Come vado dritto? Dritto per dritto Ma ci sono le rocce Ah Che cosa da fare perché Bravo Adesso vai così A un certo punto Adesso puoi tenere la tua destra Puoi tenere la tua destra Che la fai? Andare? No ci sono le rocce Ecco se vai dritto arrivi in strada Devo seguire questa strada Sì Seguite quella strada lì E vado a destra Quella che abbiamo fatto prima praticamente Perfetto Ora c'è pieno di zombie perché ci sono troppe zone infette No anche perché più giochi e più zombie ci sono Eh lo so ma anche perché si infettano le zone Dio ma prendilo Peccato Dio ma Mira da fare una strada E' un buon lavoro di fortificare questo posto Ma potrei poter dare alcuni tipi E' bello di vedere un nuovo partito qui Grazie per lasciarmi inserire il tuo team E' qui quando mi bisogna Ah Allora Buttiamo giù questo 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 Vabbè dove siamo le lezze Oh missione nuova Sperta io devo fare un po' di cura qua Spera Spera E' bellissimo questo eh Ma mamma Tops Tops Recipiente, etanolo, scatole, reggente chimici, fatto. Allora, adesso chi c'è? Elena, come stai te? Vediamo, combattere l'inflazione, dai cura al superstite. Perché Elena sei già infettata, poi mi sono infettato pure io. Anche io, la ultima. Ce l'hai la cura? Sì, sì, adesso guardo, dovrei avere un po' città. Io non la faccio raramente, di solito li faccio riposare. Chavez? È a posto? Allora, diamo un'occhiata. Base, mappa, comunità. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette con te. Sì, esatto. Il capitano Logan. Il capitano Logan. Ma qualche problema di salute. Chi è che mi segue? Ma non ti ho messa via? Scusa Elena, mi sono dimenticato. Vai, sei libera. Allora, capitano. Produci medicinali. Terapia anti-infettiva, azioni, disponibile. Capitano Logan. Ok, tutto a posto. Adesso il capitano Logan sicura. E siamo a posto così. Dunque. Tutto ok? Bene. Harry? Sì? Il gioco è appena salvato. Va bene. E quindi salutiamo. Poi questo video è durato due ore e mezza. Casomai vedrò di farne due. O tre o due. Adesso vedo. Chi è che è scoppiato? Vedi che sento questi scoppi io? Questo sono stato io. Ho parlato di fare una cosa perché ero curioso di vedere cosa fare. Allora anche quello di prima. Va bene, salutiamo tutti. Quello di prima no. Ciao a tutti e buonanotte. Buonanotte ragazzoli. Ciao, ciao. Allora, aspetta. Guarda che mi fa arrabbiare. Mi fa arrabbiare. Ok. Ciao, ciao. Allora, ne?